L'ingresso della Regione in zona bianca arriva di pari passo con un importante aggiornamento sanitario per l'intero territorio marchigiano. Nella giornata odierna, infatti, dopo dieci mesi e più precisamente dal 3 agosto 2020, non sono stati registrati a livello provinciale e regionale nuovi casi di Covid-19. Il dato arriva direttamente dal bollettino quotidiano del Servizio Sanità della Regione, che riporta quindi l'assenza di positività al coronavirus sugli 812 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, 309 nel percorso nuove diagnosi e 503 nel percorso guariti. Una notizia accolta con ottimismo, ma anche con cautela e con il richiamo al rispetto delle regole, da parte del Governatore Francesco Acquaroli, dall'Assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini e dal primo cittadino pesarese Matteo Ricci. L'ingresso delle marche in zona bianca si traduce e coincide anche con l'eliminazione del coprifuoco. Misura in vigore da diversi mesi e che a partire dalla data odierna sarebbe stata abolita anche in zona gialla. In diminuzione complessiva anche le restanti restrizioni. Nessun numero massimo per le tavolate all'aperto dei ristoranti, al chiuso invece rimane il limite dei 6 commensali per tavolo. Consentiti i banchetti dopo cerimonie e funzioni civili con Green Pass obbligatorio per la partecipazione, visite a parenti e amici consentite senza limiti orario di numero di persone se lo spostamento avviene tra zone bianche. Sul fronte economico invece riapriranno le attività ancora interdette dalle regole precedentemente in vigore, anche se alcune di queste dovranno osservare dei limiti. È il caso delle discoteche e delle sale da ballo, nelle quali sono autorizzati unicamente i servizi di bar e di ristorante, senza la possibilità quindi di ballare in pista. Nessuna variazione invece sul rispetto del distanziamento interpersonale e sull'utilizzo delle mascherine al chiuso o all'aperto, anche se su questo fronte si attendono novità a livello nazionale. Durante l'ultima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi, ha evidenziato la necessità che con l'ingresso della regione e della provincia in zona bianca venga implementata l'attività di monitoraggio del territorio da parte delle forze di polizia e della polizia locale, in particolare nelle aree esposte al rischio di sovraffollamento, frequentate principalmente da giovani nelle fasce orarie della Movida e nelle giornate festive e prefestive. Nell'ultimo fine settimana di zona gialla appena trascorso, sono stati tre i locali, situati tra Viale Trieste e Sottomonte, multati dalla Municipale per la mancata autorizzazione a trasmettere musica in orario serale. Uno di questi è stato inoltre sanzionato anche per la violazione del divieto di assembramenti.